La gentilezza delle persone che stanno a Napoli è molto bella per me. Adesso io lavoro nel servizio civile che è un po' lontano, per questo ho bisogno della patente. Se dopo, con una cosa economica, posso prendere come una macchina per andare lì e per questo ho bisogno della patente. A Palazzo San Giacomo è stato sottoscritto l'accordo per consentire a 100 donne rifugiate o richiedenti asilo di partecipare a un corso di formazione per la patente di guida. L'iniziativa persegue l'obiettivo di un più completo inserimento delle persone migranti nella vita sociale del territorio, ma anche un rafforzamento delle loro opportunità di lavoro. Questo significa dare maggiore inclusione, sentirsi parte di una società, di una comunità e poter dare grandi opportunità anche di inserimento lavorativo, di indipendenza, di autonomia. Il Comune di Napoli ha firmato meno di un anno fa la Carta per l'Integrazione dei Rifugiati. Oggi presenta dei progetti concreti che permetteranno a più di 100 donne rifugiate di diventare autonome, di imparare a guidare, di avere una patente e quindi di integrarsi sul territorio nazionale e poter contribuire alla società che l'ha accolte. Napoli sta facendo tanto e noi come UNHCR continueremo a essere vicino alla città. Il progetto nasce dalla cooperazione fra Comune di Napoli, Ministero dei Trasporti, Alto Commissariato ONU per i Rifugiati e due associazioni di categoria delle autoscuole. Le autoscuole saranno a disposizione con dei corsi mirati per loro, anche integrandoli all'interno dei corsisti che già frequentano le nostre autoscuole. Quindi cercheremo nel nostro piccolo di lavorare per la reale integrazione di queste persone. Questo è un progetto che rientra un po' nelle politiche del Comune di inclusione dei migranti, quindi insieme ovviamente agli organismi internazionali e questa volta insieme al Ministero dei Trasporti che dà l'opportunità per le donne rifugiate nel nostro Comune di poter prendere la patente. Questo sicuramente è uno strumento di libertà e di inclusione, ma anche uno strumento lavorativo che consente di poter fare un avanzamento in questo programma di inclusione che credo sia fondamentale per una naturale partecipazione alla vita civile della nostra città.